Buongiorno a tutti, benvenuti a questa edizione di Occhio ai Giornali, la rassegna stampa di Fano TV che apre tutte le mattine alle 7.30 in diretta l'appuntamento informativo, apre la giornata dedicata all'informazione sul canale 17. Cominciamo dal Santo del Giorno, oggi la Chiesa Cattolica ricorda Sant'Antonio Maria Claretta, il sole sorto alle 7.32, tramonterà alle 18.12. Il tempo velocemente gli diamo uno sguardo attraverso il sito della Protezione Civile delle Marche che per oggi indica un cielo poco nuvoloso per transito di velature e le temperature in aumento, eventi di brezza leggera sud orientali. Attenzione durante le ore notturne al primo mattino ci saranno foschie o locali banchi di nebbia in dissolvimento nelle ore centrali della giornata. Per domani martedì 25 ottobre il cielo sarà sereno poco nuvoloso con aumento della nuvolosità dal tardo pomeriggio, tant'è che poi mercoledì avremo una giornata di pioggia, venti dai quadranti meridionali, condizioni di instabilità con rovesce temporali per martedì 26 poi di nuovo tempo stabile. È stato un colpo di sonno, un colpo di sonno che ha portato alla morte di un giovane 19enne di Monbaroccio che praticamente si è addormentato al volante, è finito contro un albero ed è morto. Insieme a lui viaggiavano anche altri due compagni che si sono salvati, la ragazza in particolare come vedremo tra poco dai giornali è stata con lei che ha avuto un coraggio da vendere e ha tirato fuori dall'auto il suo compagno che stava guidando che già purtroppo era morto prima che l'auto prendesse fuoco. Vediamo i giornali, il titolo del resto del Carlino, il coraggio di Chiara, volevo strappare Filippo dalla morte, schianto contro un albero nella notte, l'auto prende fuoco, muore il conducente, 19 anni nonostante il tentativo di salvataggio dell'amica, ferito anche un altro ragazzo. Nel riquadro Chiara, la ragazza che ha tirato fuori dall'abitacolo Filippo ed eccolo qua, Filippo nel cerchio a destra del vostro teleschermo, Filippo è il 19enne che ha perso la vita. Queste invece sono le due pagine dedicate, eccole qua, alla tragedia, alla notte di sangue. Avremmo dovuto restare svegli, dice adesso Chiara dal suo letto d'ospedale, ci siamo ritrovati invece sotto i sedili mentre il fumo ci avvolgeva, lo schianto, il rogo, poi la morte e quel messaggio mai arrivato. La raccomandazione degli amici, qua chiamaci quando sei a casa e a casa purtroppo Filippo non c'è mai arrivato. Era un artista, un amante della musica, sempre con noi. Vedete gli amici qua fotografati, probabilmente credo all'obitorio o giù di lì insomma, gli amici che probabilmente straziati dal dolore non si danno una spiegazione come è facile a questa giovane età. È difficile capire e comprendere la morte. Alle 5.30 è successo questo incidente, alle 5.30 del mattino il ritorno a Monbaroccio era andato ad una festa insieme a questi amici, ha accompagnato quattro ragazzi a casa, due li ha lasciati a Pesaro, gli altri hanno proseguito. Chiara ha bussato in una casa chiedendo di chiamare il 118, a nulla purtroppo sono valsi i tentativi di rianimarlo. E queste sono le due pagine del resto del carlino. Adesso vediamo velocemente anche quelle del Corriere Adriatico su questa tragedia colpo di sonno. Ecco qua, muore a 19 anni dopo la festa, l'auto di Filippo Giovanelli finisce contro un albero all'Arzilla. Il disperato soccorso dell'amica, la mamma di Chiara, nonostante le gravi ferite, mia figlia lo ha trascinato fuori dall'auto, salvi altri due amici. Le passioni di Filippo, calcio, geologia e musica, era un amico perfetto, una comunità in lutto, quella di Monbaroccio, era vero, gentile, posato e sapeva sempre ascoltare tutti quanti. Ci sono le fotografie anche, le vedete nelle immagini, in queste due pagine del Corriere Adriatico, il luogo dell'incidente, la quercia. Fatalità vuole che quella sia l'unica rimasta in tutto il rettilineo, il resto è tutto campi, forse lo riuscite a vedere anche dal vostro teleschermo, dalla televisione di casa, il resto era tutto campi, c'era solo quella quercia, quella quercia che purtroppo sulla quale è finita l'auto di Filippo, una Fiat Bravo e queste sono le immagini appunto della tragedia e le immagini di Filippo ancora in vita, pubblicate sulla sua pagina dei social network. Torniamo sul resto del carlino, cambiamo pagina. Il caso dell'ospedale, i sindaci vanno riconvocati, decidano sull'area pubblica, esce allo scoperto il consigliere regionale del PD Biancani, intervistato appunto dal resto del carlino. Seri non è d'accordo su Fosso Signore, mentre criteri e obiettivi portano altrove come il principio di costruire sul costruito. C'è questa incognita dunque fanese. Furti, furti senza sosta, arriva la ronda virtuale a Cagli, un gruppo di cagliesi si è organizzato per raccogliere informazioni su movimenti sospetti. Cade dalle scale invece la tragedia, cade dalle scale della villa al mare e muore un anziano turista. L'incidente l'altra notte nella casa dell'imprenditore Marco Montagna in Viale Trieste, dove un turista americano di 75 anni, ospite, è morto per un infortunio domestico. Poi vedete a Fossombrone la fotografia di uno schianto sul guardrail, tutti i particolari nella breve di cronaca che c'è sulla pagina del resto del carlino. Rischia di morire invece sempre dalle pagine locali a causa di un bracere acceso urbino, sfiorata un'altra tragedia con il monossido, un 42enne è stato salvato dalla madre. Dunque stava per morire asfissiato da questo monossido di carboglio. Lo ha salvato la madre insospettitasi dallo strano silenzio proveniente dalla camera del figlio. si tratta di Fabio Balsamini di 42 anni. Poi a Fano, da Fano invece, i carabinieri bloccano un pullman di ragazzi in gita, sono saliti sopra, il controllo è durato circa un'ora. La domanda è stata un po' più o meno la stessa, cosa fumate? Nei guai la scolaresca del Polo 3 diretta a Treviso si è svolta sabato e quindi c'è stato questo racconto della mamma di una ragazzina 14enne che frequenta la prima classe di uno degli istituti superiori appunto dell'Apolo 3 che comprende Olivetti, Volta, Seneca, Apolloni e Archimede. Durante questo tragitto il pullman è stato bloccato dai carabinieri e quindi poi c'è stata questa perquisizione, insomma questo controllo. Cambiamo giornale adesso, andiamo sul Corriere Adriatico e apriamo subito la pagina di Fano del quotidiano marchigiano. Variante al piano regolatore, istituisce il parco, giovedì l'atto in Consiglio Comunale, l'area vincolata per 30 ettari, il Bartolagi dice tutti la devono approvare, si riduce l'indice di edificabilità e si sposta la strada a quattro corsie, stop alla concessione ai cacciatori. Anna Tonelli del Comitato, un bel passo avanti che recepisce le indicazioni dei tavoli tecnici. E poi c'è la cronaca di Fano Corre in 850 alla Festa dello Sport, Mirko Pettinelli di Corinaldo e Valeria Baldassarre di Pesaro, primi nelle due categorie. È stata una bella giornata dove c'erano anche dei camminatori e dei bambini che hanno partecipato a questa bella festa dello sport. Il Carnevale, sul Carnevale di Fano invece è identità e storia, speranza per nuove risorse. La proposta di legge della deputata Ricciatti è sostenuta anche da Cuperlo e da Marchetti del PD. Le norme vincolano a ripartire una quota del FUS tra le manifestazioni che ne fanno richiesta. Poi sotto la notizia di cronaca che una ragazza si frattura il bacino, un cinquantenne finisce sul garrail miracolato, si schianta nella notte contro un tir in sosta. È successo a Marotta, notte a rischio quella tra sabato e domenica scorsi, che ha fatto registrare diversi incidenti spettacolari che avrebbero potuto trasformarsi in altrettante tragedie per gli automobilisti. E poi andiamo sulla pagina di Urbino, anche qui la notizia del bracere in camera da letto che ha rischiato di far morire intossicato un 42enne che è stato salvato in Estremis dalla madre. Poi ricorda giustamente il giornale il precedente, Urbino è ancora sotto shock per la morte di Alex e Anna Maria per colpa dei gas di una caldaia della canna fumaria otturata del vicino. La tragedia però non è servita da lezione. Questo qua, insomma, si era acceso un bracere. Sanno anche i bambini che il bracere in camera da letto equivale a voglio farla finita. Piano asfalti a Urbania, ecco le vie interessate. I lavori su via Molino. Dei signori includeranno dossi limitatori e pista ciclabile. Prove di coraggio, siamo sulla pagina di Senigallia, Prove di coraggio, i baby bulli ci scommettono la paghetta. Marzocca è accesa nella situazione fuori controllo. Chieste adesso le telecamere. C'è chi si sdraia sulle strisce pedonali. Chi si picchia sangue e poi scatta i selvi. Insomma, generazione bruciata. Quella che davvero pare non trovare mai pace. È una generazione della quale se non si interviene probabilmente pagheremo quelli che hanno, probabilmente anche la mia età, pagheremo lo scotto più avanti. Insomma, se questi ci devono garantire la pensione più avanti sarà un dramma. O non solo quelli che ci devono garantire la pensione, ma quelli che ci dovranno governare, quelli che dovranno governare più avanti. Questa è una generazione che stando a quello che succede, quello che si vede, per carità, andiamo a votare, andate a votare al referendum, scegliamo il nostro futuro. È l'appello di Antonio Sebastianelli, lo vedete in questo fermo immagine. Ha realizzato un videomessaggio su Facebook. L'appello per il Comune Terre Roveresche arriva attraverso il social network da parte del Sindaco. Se volete andarlo a vedere basta cercarlo su Facebook. Il videomessaggio che ha in un giorno totalizzato 1200 visualizzazioni stimola alla partecipazione a questo referendum. Poi lo slogan, siamo a Orciano, lo slogan, le colline scendono in campo, Barche, Orciano, Piaggia e San Giorgio insieme conteranno 5563 abitanti. Ok, queste sono le pagine, andiamo a vedere l'ultima, sempre dal Corriere Adriatico, le pagine locali, nuovo ospedale in arrivo le varianti, oggi Ceriscioli scrive alle due amministrazioni di Pesorefano per l'assenso all'accordo di programma. Gli interessi immobiliari dietro l'edificabilità di 20 ettari agricoli sottoposti a vincoli e poi una nuova strada. Attraverso la sede unica di Marche Nord passa la cementificazione della valletta di Fosso Segiore. Questa è l'immagine, il rendering con il massiccio ospedale nel paesaggio di Fosso Segiore. Vedete qua sotto c'è il mare, queste le splendide colline, vedete tutta l'area verde, qui c'è il nuovo ospedale che, se stando così le cose, verrà realizzato tra appunto Pesaro e la città di Fano. Occhio ai giornali finisce qui, grazie per averci seguito, a voi tutti l'augurio di una buona giornata, questa sera alle 20.30 c'è Occhio alla Notizia e il telegiornale. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS